Tramite la mia ricerca io mi occupo di studiare e sviluppare nuove tecnologie per quanto riguarda il dare una rapida e veloce risposta in seguito a catastrofi naturali quali ad esempio terremoti o inondazioni. In particolare io mi occupo della parte di telecomunicazioni e quindi ripristinare la connettività sia essa cellulare o wireless in seguito appunto a un disastro naturale. Tutti ci ricordiamo anche la recente inondazione nella bassa modenese e la reale difficoltà per non dire impossibilità nel comunicare da parte degli interessati dell'area e la conseguente difficoltà dei team di soccorso nel fornire un servizio rapido ed efficace. Ormai comunicare è diventato fondamentale tramite l'utilizzo di robot che parlandosi tra di loro e organizzandosi per coprire l'area di interesse appunto colpita dalla catastrofe riescono a sia localizzare eventuali superstiti nella zona colpita sia ad aiutare i team di supporto a ricevere richieste di aiuto da queste persone colpite dal sisma, dall'inondazione o qualunque altra catastrofe naturale può essere accaduta. A me piace fare ricerca e ritengo che la ricerca sia fondamentale perché permette di avanzare tecnologicamente e socialmente. Ogni persona che fa ricerca si basa su tutto ciò che i ricercatori negli anni passati hanno sviluppato e hanno portato come avanzamento di progresso.